Ciao, sono Elisa, ho 18 anni. Mi chiamo Irene, ho 17 anni. Mi sono Cristina, mi è un bel spiattolo. Erika, ho 18 anni. Le mie passioni sono la ginastica fisica del basket. Adoro il mare. La pizza. Tutto quello che riguarda le scienze. Andare a cavallo. Oggi è il primo giorno qui a Corindor. Per insegnare ciò che sto imparando io oggi, quindi la programmazione su Scratch. Mi aspetto di diventare un coach per riuscire a capire cosa vuol dire programmare. La programmazione, il coding. E mi sono divertita tantissimo. Ho visto che il coding è accessibile almeno qui. Ti senti pronta a scendere in campo? Ehm, sì, e adesso? L'importante sarà chi riusciate a socializzare tra di voi, perché è quello che vi rimarrà tutti di questo evento e soprattutto come bagagli a proprio costo personale. Poque le donne danno sempre un incentivo in più. Siamo al liceo Peano, di cui sono una studentessa. E per la prima volta abbiamo utilizzato dei programmi di programmazione e coding, dove praticamente abbiamo fatto delle esperienze creando piccoli video animati. Buongiorno, Roma. Questo è California Calling. Mi chiamo è Emily Tomford. Ho un PhD in artificial intelligence. E ho scrivere in code. I teach in California, in New York, e poi in Italia. e poi in Italia. Hi, Coding Girls! I'm so excited to meet you in November and to teach you to make interactive music videos with code. I hope you're excited too and curious and creative and persistent and ready to discover your superpowers.